eccoci qua ciao a tutti buonasera, benvenuti come sempre il nostro appuntamento ormai è una consuetudine bene abbiamo visto parecchio interesse per la serata che sta per iniziare questa sera parleremo di misure multimetri anche un po' di revival con un esperto del settore abbiamo invitato Marco Franceschini tra poco lo faremo entrare quindi sarà una serata anche tecnica quindi non solo di ricordi andremo magari a rispolverare questo qua se ce l'avete io l'ho portato per l'occasione originale del 1995 96 insomma quegli anni lì bene questa sera avremo occasione di parlarvi lascio la parola a Pier per i saluti e poi per introdurre il nostro ospite grazie Paolo benvenuti a tutti questa sera il titolo della serata è misure elettriche con Marco Franceschini Marco è un nostro frequentatore nel senso che ci segue sia me che Paolo da diversi direi anni e in particolare sul mio forum si occupa di post che riguardano i multimetri digitali lui ha una conoscenza profondissima del mondo della misura e in particolare dell'ambito multimetri tanto è vero che ha aperto un post sul forum veramente che è un'enciclopedia e quindi abbiamo pensato di organizzare questa serata per condividere condividere con voi un po' di conoscenza sull'ambito misura esperienze consigli e come sempre stare un po' in compagnia fra appassionati di elettronica e comunque collegati al mondo dell'elettronica in senso lato e quindi niente direi che possiamo far entrare il nostro ospite toc toc buonasera a tutti mi presento sono Marco Franceschini condivido con Pier e Paolo la grande passione dell'elettronica elettrotecnica da molti anni ormai perché come Pier ho lo stesso in pratica percorso di studi prima ITIS poi ingegneria elettronica quindi il mio primo contatto con elettronica è stato è avvenuto in occasione del del corso di scuola radioelettrica che mio padre frequentava come si faceva un tempo facevano un tempo le vecchie generazioni di nostri genitori negli anni settanta fine sessanta con la costruzione di apparati a valvole giradischi prova valvole eccetera 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 e niente io sono quando ho scoperto il forum di Pier Raiza mi sono subito precipitato a iscrivermi e ho aperto subito una sezione dedicata ai multimetri digitali anche definiti tester ma io il termine tester lo diciamo lo utilizzo più per classificare gli strumenti analogici come i nostri gloriosi ISC della costruzione elettromeccanica di Milano di cui possiedo due esemplari ambedue acquistati nell'anno in fausto di Chernobyl tra l'86 e l'87 proprio in quell'epoca lì per primo acquistai un microtest 80 e subito dopo spinto dalla curiosità per questo piccolo gioiellino prese subito un 680R sesta versione a c picchia sesta versione niente penso che in quell'anno lì acquistai anche subito il mio primo multimetro digitale che a quell'epoca era prodotto distribuito penso dalle GBC 7605C e anche quello è là che riposa gelosamente felicemente insieme agli altri che ho possedgo vari multimetri Unity Fluke certo avevo anche un grosso in metra ma si è guastato in un relay interno no Marco dicevo Ice è del primo dopoguerra mi sa proprio è molto è molto è molto antica sì quindi anni 50 diciamo certo che sì il 50 la Ice è stata la protagonista indiscussa di una intera generazione di radioriparatori tv io frequentavo da bambino un radioriparatore che riparava anche televisori che aveva frequentato una sorta di Ipsia tipo istituto Giorgi per intendersi qui da me e ci aveva un bel 680R aperto sempre in bella mostra la la Ice costruiva anche 680R modificati resi custom per i fotografi per le misure di batterie di anche di apparecchi audiometrici e per l'udito poi vabbè se vogliamo parlare di Ice adesso Ice purtroppo vive come religioso ricordo era una delle grandi eccellenze italiane che purtroppo come sistema paese non abbiamo valorizzato altri all'estero l'hanno fatto perché la Simpson produce ancora oggi produce test analogici attualizzati al rispetto delle varie specifiche come la 61 10 che definisce ad esempio ma non solo la rispondenza alle sovratensioni i cosiddetti over voltage e poi apriamo una parentesi su questo per definire cosa sono le categorie di protezione dalle sovratensioni perché questo mi sembra molto importante perché non tanto per chi fa misure in bassa tensione corrente continua ma che ha a che fare con diciamo sistemi di distribuzione elettrica anche bassa tensione attorno a 1000 volt perché sempre quello è il valore massimo i milioni multimedi adesso sono categoria 4 1000 volt ecco per dirti i 289 87 5 287 28 227 sono tutti categoria 3000 sono tutti categoria 3000 volt categoria 4 600 volt certo e le categorie si differenziano in base alla corrente di cortocircuito e alla lontananza dalla generazione dell'energia ok ad esempio la categoria 2 in cui ricade il 680R una delle più recenti versioni si riferisce ai sistemi monofase con corrente di cortocircuito minore di 10 kA la categoria 3 corrente di cortocircuito 50 kA per sistemi trifase e diciamo anche sistemi di distribuzione di energia elettrica commerciale come possono essere centri commerciali anche bar eccetera la categoria 4 ammette una corrente di cortocircuito maggiore di 50 kA e questo per quanto riguarda solo la corrente di cortocircuito ovviamente quando e Piero sa bene perché lavora sempre con alte tensioni anche altissime tensioni lui perché fa dei bei moltiplicatori di ci possono essere sovraimposte o sovraimpresse sulle tensioni che le persone misurano gli operatori misurano delle sovratensioni anche che possono arrivare sugli 8 kilowatt 12 kilowatt perché ricordiamoci bene che le impedenze della rete di distribuzione elettrica è molto bassa e quindi le correnti di cortocircuito possono essere molto alte e qui arriva il primo problema che abbiamo con i multimetri certificati fra virgolette da enti terzi come Intertech o gli underwriter laboratory ma quelli un po' meno che certificano fluc e quindi fluc se non è certificato ovviamente mi riferisco a tutta la produzione estremo orientale non tanto la unity che è del 1988 e quindi ha un certo plasone quanto ma anche unity quanto a tutta la produzione tipo aneng zt qualcosa ce n'è su qualsiasi sito che possiate consultare ce n'è una sterminata quantità la stessa la stessa unity progetta i propri multimetri come ho avuto occasione di scrivere anche nel forum secondo me e questa è la mia ipotesi però lo vedo da come sono progettati una specie di curva di adattività adattiva rispetto alle realizzazioni che esistono in occidente come ma non solo come Yokogawa anche in Giappone Sangua come Fluc Goss e Mettowatt Bryman che sono fra i più grossi costruzioni o Tektronix anche ma Marco a livello appunto della certificazione di queste categorie si può porre un problema di sicurezza cioè potrebbe essere che io acquisto un multimetro diciamo dall'estremo oriente che mi viene certificato con Cat X e in realtà le prove a cui è stato sottoposto non sono propriamente quelle di quella categoria è una domanda un po' cattiva sicuramente sì perché se ti trovi a fare delle misure anche su motori di una certa taglia vicino magari anche a centrali o a sottostazioni di distribuzione elettrica presenti lungo la distribuzione elettrica ci possono essere sovraimpresse delle sovrattenzioni che non vengono smorzate assolutamente dallo strumento perché è privo di MOV varistori ad ossido metallico termistori a coefficiente di temperatura positivo oppure se sono presenti sono talmente microscopici che vengono liquefatti dall'energia perché si parla di energia non tanto di tensioni o di correnti di cortocircuito e e soprattutto anche quel piccolo componente che molto spesso si trova nei fluc ad esempio ma in qualsiasi idealizzazione occidentale in un certo rilievo quel resistore fusibile da un chilohm certo quello serve a limitare la corrente e l'onda di sovrattenzione che arriva allo strumento che non solo fa proprio provare danni all'operatore può anche distruggere lo strumento stesso perché come saprai ci sono state fatte delle prove e l'innesco dell'arco se non è smorzato o attenuato è sicuro anche all'interno dello strumento sotto il commutatore c'è un power user che conoscerai che si chiama joy smith che è americano che scrive su un forum nostro antagonista insomma comunque sia del nostro settore forse lo conosce anche paolo perché è australiano questo forum certo e questo signore questo utente potente tradotto in italiano con una traduzione letterale fa molto spesso delle prove sulla rispondenza alle categorie di sovra tensione dei multimetri ci ha si è autocostruito un banco con supercondensatori in grado di a comando di produrre lo stesso impulso che è definito all'interno delle 61 10 stesso impulso della stessa durata della stessa ampiezza 8 kilowatt o 12 kilowatt a seconda della categoria e non ti dico quanti i multimetri fanno puff se li ha fucilati tutti e lui lui ha avuto per le mani ha avuto per le mani paolo anche una delle prime versioni di 87.5 recenti e quello ebbe dei problemi me lo ricordo e subito dopo ne acquistò un altro e lo sottopose a test per vedere se erano intervenuti per mitigare il problema e il secondo superò la prova quindi abbiamo anche un altro problema all'interno delle produzioni quelle di Blasone bisogna andiamo per lotti di produzione anche per numero di serie addirittura delle schede e revisioni interne delle PCB e per esempio ad esempio in quell'87.5 lì si guastò proprio il primo stadio di protezione vicinissimo alle boccole di ingresso noi richiamiamo boccole loro richiamano in un'altra maniera comunque recentemente l'87.5 più recente che ho visto manifesta un altro tipo di problema grave anche quello nello spessore delle piste sul commutatore rotativo quello però è un problema diciamo di usura meccanica prematura altro problema comune a Bryman 786 modificato e Vblog che era un procinto di acquistare ma mi sono trattenuto perché come ho scritto sul forum non è ammissibile che uno strumento moderno venga progettato in quella maniera lì o è caricato troppo staticamente come i cuscinetti il precarico dei cuscinetti se è troppo forte li sottopone a usura e puff si usurano o le piste o le sfere e questi errori li fanno anche i grandi anche i grandi marchi li fanno anche i grandi perché Bryman dovrebbe sapere che il precarico tra la manopola esterna del commutatore quella visibile esternamente ecco arrivato il mio amico Franco Maria c'è un Bryman 869 che esula da questo computo diciamo perché è più vecchio quindi secondo me risente meno della diciamo della come si può dire della gioventù di progetto e niente il Bryman 786 a cui mi riferivo ha problemi di usura prematura delle piste del commutatore quindi per adesso il mio consiglio evitate di comprarlo ecco infatti Marco entri in un'area che secondo me è molto bollente perché abbiamo già visto girare parecchi commenti che riguardano qualche consiglio per la selezione bar e acquisto quindi se tu hai qualche dritta da passare ce n'è una miliardata una miliardata ve ne posso dare una miliardata facciamo però una premessa diciamo che noi qua ovviamente non stiamo facendo né pubblicità né positiva né negativa sono pareri ovviamente ragazzi tutto dipende ovviamente tutto dipende dalla pecunia la quantità di pecore che abbiamo nel greggio purtroppo ecco Marco quindi ti chiederete se vuoi fare esatto darsi qualche dritta e colgo l'occasione perché qualcuno chiedeva come valuti HT Italia che l'HT Italia è molto promettente ho visto alcuni suoi strumenti bisognerebbe fare dei classici tear down per vedere rendersi conto di come siamo progettati internamente ma se una azienda entra in un certo settore molto competitivo e ormai anche molto inflazionato ma è quello dei multimetri deve essere per forza una certa qualità di realizzazione se no se no non è possibile come prezzi penso siano allineati come circuito di antenna lo stesso perché tanto i componenti circuiti integrati sono sempre gli stessi i convertitori vero valore efficace valore continuo sono sempre gli stessi analog devices linear technology di lì non si scappa oppure si scappa se rimaniamo nelle realizzazioni cinesi certo allora come sai c'è la Fortune che realizza circuiti integrati all in one contengono tutto contengono convertitore analogico digitale a conversione sigma delta contengono un riferimento di tensione di tipo band gap con una stabilità deriva intorno ai 75 100 parti per milione a grado celsius comprendono il sistema di conversione davvero valore efficace a corrente continua e quelli sono molto più economici e dunque che dicevo quindi il mio consiglio per un acquisto eventuale di multimetro dipende dall' impiego a cui verrà destinato se una persona non ha necessità di misure su tensioni occorrenti con forme d'onda che non siano molto differenti da quella sinusoidale pura quindi che contengono poche armoniche può anche orientarsi verso un multimetro calibrato sul valore medio classico della sinusoide perfetta quell'1,11 volte il valore efficace altrimenti e qui la produzione è estremamente ampia anche la stessa fluke ha come sapete tutta la famiglia 15b 15b plus 17b 17b plus che purtroppo sono tutti non ad vero valore efficace e tutti anche privi di barra analogica barra analogica che è estremamente importante quindi la barra analogica tra l'altro serve per discriminare la velocità della manifestazione di certi eventi se non è presente una persona si rende conto se su ad esempio un segnale in corrente continua è sovraimposto a una certa forma d'onda che oscilla o varia con una certa frequenza questo è un problema che avevano anche i vecchi tester non i vecchi i tradizionali tester analogici e là ancora per l'inerzia dell'equipaggio mobile perché se supera se la frequenza del segnale applicato sull'imposto supera l'inerzia dell'equipaggio mobile resta fermo certo e quindi quindi mai comprare un multimetro privo di barra analogica sottostante quindi io ho un fluke 15b plus ma l'ho preso così per diciamo per prova per test ma poi tra l'altro sono tutti a basso numero di conteggio a display conteggio a display è importantissimo per la risoluzione della misura esatto conteggio a display che una volta era definito in termini di cifre di cifre mostrate e lì c'era una una babele di si andava da tre cifre e mezzo a tre cifre e tre quarti tre cifre e quattro quinti quattro cifre e mezzo sei cifre e mezzo cinque cifre e mezzo otto cifre e mezzo per i multimetroni quelli giganteschi dell'HP Agilent il 3458 quello gigantesco quello lì è il NEC plus detto alla latina ultra dei multimetri perché è di livello meteorologico e quello lì è tarabile è possibile metterlo in punto calibrabile solo tramite un riferimento campione che sia di livello superiore quindi o una scella tipo Weston oppure una giunzione Jawsphone o qualcosa del genere tra l'altro integra il riferimento il migliore disponibile commercialmente che non sia militare ovviamente l'LTZ1000 che costa da solo una bella cifra che è un riferimento di tensione appartenente alla categoria degli riferimenti di tensione a Zener sepolto che come sai è una giunzione che è annegata distante dalla superficie del semiconduttore per evitare il problema dei difetti quindi possibili problemi che riguardano invece i riferimenti di tensione a quelli come l'M399 tutti i ref vari ref 193G come ce l'ho io il ref 101 che sono a band gap sono a band gap e sono sistemi compensati in temperatura famosa diciamo la famosa curva di deriva in temperatura con coefficienti di temperatura di 2,2 millivote negativi a grado celsius è un classico esempio di scuola penso che uno dei primi riferimenti di tensione sia stato a cella di blocco la D580 la D580 che è uno dei primissimi io ce l'ho ce l'ho come diciamo come come costruzione mia ma ovviamente se non è calibrato qualsiasi riferimento di tensione o di corrente o di temperatura a termocoppia o aggiunzione a quello che sia non ha la sua validità come la può avere la calibrazione è importante ragazzi infatti qua mi sa che hai aperto un tema delicato la calibrazione con la calibrazione e poi in seguito taratura e messa in punto apriamo purtroppo un vaso di Pandora vaso di Pandora perché ovviamente nel nostro paese con la deindustrializzazione che c'è stata e persiste tuttora andrà avanti privati hobbisti appassionati difficilmente fanno calibrare uno strumento che andrebbe calibrato con periodicità annuale e costa per il mio 89.4 che è un 4 cifre e mezzo che non corrisponde a 50.000 conteggi mi hanno chiesto circa 200 euro solo calibrazione la taratura l'ha messa in punto e certificazione accredita eccetera 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 potete immaginare quanto costi in più minimo sono 300 euro sicuro quindi qui ho parlato anche ho scritto anche sul forum anche con Tiziano dobbiamo armarci di ingegno nostro da ingegneri periti tecnici quello che siamo e progettarci il nostro la nostra scatolina come vedete su internet no la D584 inserito nella scatolina con con tutti per almeno avere un riferimento di tensione corrente continua magari anche di resistori magari anche V-Shale Dale che sono di precisione e di corrente anche possibilmente ad esempio con il REF200 REF200A che produce correnti come sai per di riferimento 100 microampere 200 microampere 50 microampere 300 microampere dipende da come sono combinati gli specchi di corrente dentro certo dobbiamo cercare di progettarcelo e farcelo calibrare soprattutto e poi sarà possibile anche distribuire commercializzarlo venderlo a chi lo vorrà comprare è un grande progetto ma uno dei cruzi principali degli hobbisti in particolare è non ho tanto budget da dedicare a un multimetro no perché è un hobby e comunque magari vorrei spendere questi soldi anche per altre questioni se avessi un budget che so di 50 euro 100 euro verso quali multimetri mi dovrei orientare tranquillo tranquillo vuol dire allora facendo uno allora escludiamo subito pure fluke perché in quel range di pezzo lì esiste solo la serie 100 101 106 107 e la serie 15 la serie 10 con 15b che sono tutti calibrati su valore medio quindi io non me la sento consigliare il primo multimetro magari come a valore medio calibrato su valore medio ma bisogna per forza andare su qualcosa che mostri il vero valore efficace con i limiti della computazione del vero valore efficace come sai fattori di cresta e risposta in frequenza quindi con 100 con qualche cosa di più di 100 euro io andrei su un bryman 235 ad esempio ecco ma infatti un bm 235 che non risente del problemino del commutatore non risente del problemino del commutatore sempre per rimanere in ambito occidentale perché poi vabbè gosse e metropath che è tedesca nemmeno a parlarne ci sarebbe la estec che ha qualche ha qualche modello ma anche quella statunitense troppo è troppo secondo me con 100 dollari non lo so su che livello andiamo quindi io mi ero interessa su quelli lì su un bryman 235 certo l'869 no perché è un modello di punta il 786 costa su 170 euro però non è il momento di comprarlo secondo me perché se ha quei problemi lì problemi anche di precarico perché vi spiego l'assieme del del commutatore rotativo è collegato di sotto connesso a PCB con tre viti tre viti che si autofilettanti tra l'altro che sono secondo me state montate senza rispettare la coppia di avvitamento perché anche lì la coppia di avvitamento non rispetta nessuno io quando comprare il mio 282 appena lessi manuali di servizio e lessi 06 newton per metro via manico dinamometrico della via tedesca con insetto philips e mi misi tra l'altro sul 282 posso raccontare un aneddotino nel manuali di servizio sono specificate 6 viti philips mentre in quello che avrebbe io in dote c'erano 6 viti torx questa è una prima discrepanza non so da che dipenda poi altra cosa strana c'è una noterina quello questo questo per dire che bisogna leggere anche manuali se disponibili perché non sempre sono disponibili manuali tecnici o di servizio anche per la calibrazione che però riguarda solamente chi la effettua non l'utente finale allora dopo la prima apertura del 282 nel vano mi accorsi che alla successiva richiusura non si chiudeva filo e quello mi indusse ad andare a leggere meglio il service manual e a un certo punto nel service manual c'è una cosettina che forse molti non notano c'è scritto per ripristinare le caratteristiche di rispondenza a normative ip67 eccetera bisognerebbe che lo rimandasse in fabbrica perché è stato chiuso sotto pressione sotto pressione vale a dire una pressione più alta di quella atmosferica certo pressione più alta di quella atmosferica e quindi camera iperbarica rimane con una diciamo con una protuberanza se ti ci fai caso l'ho scritto anche nel forum e questa è una prima cosa poi poi di cosa parlavamo delle marche diciamo un po' più a basso costo quindi hai parlato di Brayman e i cinesini che arrivano come li valuti i cinesini quelli dunque adesso cinese significa se volete qualche cosa di affidabile Unity che viene distribuita anche dal molti ho visto molti chiedevano chiedevano informazioni appunto Unity diciamo da Unity la serie 61 certo ovviamente prendete se potete il 61E che è vero valore efficace anche sul 61E c'è un aneddoto i cinesi all'inizio hanno previsto in una delle prime versioni di 61E avevano previsto la possibilità di saldare l'LT 1790 che è il riferimento di tensione che equipaggio 87.5 con poca spesa una persona poteva migliorare la deriva in temperatura quindi precisione in corrente continua e Joe Smith effettuò la modifica fece le prove evidentemente perché di base il 61E era penoso derivava in temperatura in una maniera incredibile in parti per milione per grado Celsius nelle successive revisioni i cinesi mangiarono una foglia e hanno elevato la possibilità di fare questa upgrade quindi niente 61B C D quello che sia il 61E plus il 61E plus è una variante diciamo più ergonomica più massiccia che si uniforma alle famiglie superiori perché le famiglie superiori sono i P65 hanno i led magari di illuminazione che secondo me è una caratteristica totalmente inutile anzi assorbe energia dalle batterie in maniera impressionante evitare i multimetri con display che siano o led o a VFD fluorescenti perché la tecnologia delle batterie a meno che non sia un generatore a radio isotopi ma è quello che ci aveva nelle gambe nel braccio e nell'occhio Steve Austin drena qualsiasi tipo di batteria ricaricabile ioni di litio lipo quello che sia e poi secondo me produce rumore perché si è progettato o non si è progettato non è un display pistalli liquidi senza necessità di generare un'alta frequenza per pilotarle e poi queste cose le sa meglio di me ma guarda un IT mi ha sempre colpito perché sembra che abbia una strategia di evoluzione per arrivare piano 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 a dei livelli alti ecco lo dici è come dici è come dici come avevo iniziato a dire prima eh cioè la loro strategia qual è? quella di avvicinarsi piano piano certo secondo me è una impressione che mi sono fatto non vogliono distruggere il mercato occidentale e il mondo occidentale subito perché se no fine acquisirebbero subito Fluk Goss e Metawart Tektronix farebbero una concentrazione invece si limitano piano 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 nel 61E plus nel 61E plus hanno messo tre termistori PTC tre MOV però non ci hanno messo il resistore fusibile e poi come sappiamo io avrei una domanda Marco dimmi aspetta finisco un attimo come sa Pierre come sa bene perché si occupa di progettazione in alta attenzione nessun slot in aria sì nessuno dimmi Paolo ma senti la cosa ma tutte queste cose qua spiegami tu passi il tempo a sbottare il buttimetro i test per arrivare a conoscere ogni filo segno è la passione è un lavoro è una deformazione professionale è una deformazione professionale come molti hanno il pallino per l'alta tensione molti per la bassa tensione per la radiofrequenza per e come è nata questa passione perché te l'ho detto all'inizio io a cinque anni come molti di noi aveva hanno avuto prime esperienze con radio a valvole smontate con cacciaviti della Singer quelli grigi con poi arrivata a scuola dopo le classiche scuole medie ex inferiori arrivata alle scuole medie superiori iniziai i primi due anni no i primi due anni no perché come sa anche Pier i primi due anni erano comuni per tutte le specializzazioni e non c'era un gran che di c'erano laboratori di fisica ma vedevi qualche strumento a bobina mobile o equipaggio mobile che fosse poco vedevi al terzo anno a elettrotecnica cominciai a vedere tutti questi strumenti poi arrivò l'80-60 della Fluke si è rimasto affascinato dalle lancette dai display poi comunque c'è anche per come le poni queste cose l'80-60 sei anche uno preciso molto preciso l'80-60 è stato uno dei primissimi esempi di multimetro al mare del vero valore efficace costava un botto all'epoca aspetta Marco ti interrompo un attimo vorrei mettere in condivisione schermo questo è il nostro forum dove abbiamo un sacco di argomenti allora Marco ha creato un post che si chiama recensioni di multimetri digitali e sono superate le 33 pagine dovete vedere il livello di analisi che c'è su questa roba cioè multimetro per multimetro sono messi a nudo con considerazioni calcoli prove è una roba guarda da perderci la testa quello che ha fatto vedere adesso quello che ha fatto vedere adesso quello che ha fatto vedere adesso Paolo è l'87-5 quello ultimo questo vici qui ecco io ho anche un vici un marchio semi-anonimo diciamo di medio bassa qualità però li avrete visti sono quegli strumenti che imitano l'179 79 3 fluk con l'holster integrato allora vi ho postato il link sui commenti e comunque ad ogni modo basta che andate sul forum e scrivete digitali o multimetri e salta fuori questo post qua e no quello che volevo dirti Paolo è che ma fin dall'inizio della storia ci sono ma io penso che li hai messi tutti Marco cioè non ne manca uno questo è 786 cioè se vai indietro adesso poi andiamo per immagini giusto per fare rapidamente però ha proprio dettagliato cioè hai la casa in base da multimetri no no non in base ma quelli che non posso acquistare o anche ci sono anche i multimetri da banco che costano una sassata quelli di studio a Mon diciamo in via in diretta non purtroppo in diretta ecco questo è il commutatore in questione con quelle viti di cui vi dicevo e questo è un punto debole che è saltato fuori praticamente subito è saltato fuori perché in pratica produce una diciamo una eccentricità proprio macroscopica che è in grado di riavviare il microcontrollore e adesso come come gestiscono questa cosa qui cioè loro penso che vadano per batch per lotti per batch per i lotti esatto questo 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 è un classico il cento l'121GW di di è un classico ha avuto più problemi questo multimetro digitale che un ex diciamo un ex ragazzo di colore anni 70 pieno di capelli e che problemi ha manifestato questo questo qui che nelle intenzioni del progettista del coprogettista insieme a una famosa azienda che produce multimetri strumenti non sono multimetri digitali questo ha avuto problemi di firmware interno velocità dell'autorengine autoselezione delle portate troppo lento problemi al commutatore mancanza di precisione nella commutazione da una diciamo da una da una classe di misura all'altra eh diciamo che sono già parecchi problemi e anche gravetti eh 121 ovviamente GW è la contrazione dell'1 1,21 GW quello famoso di ritorno al futuro esattamente esattamente e poi ci sono tutti gli anni e questo è Brayman mi sembra l'869 sì questo è l'869 con termocoppia K una cosa da valutare nell'acquisto di un multimetro è la presenza della possibilità di misure di temperature quindi compensazione del giunto freddo che viene fatto alle boccole qua giù in fondo con come sa Pierre anche con un diodo e sonda K relativa il Brayman 869 è avanzato perché ne prevede due addirittura presenza di due termocoppie contemporanee questo è una vecchia Aurora al 73 dell'epoca di quando facevamo l'ITIS noi sì sì proprio basico però ha sempre lavorato bene questo questi sono dei cavalli di battaglia con un holster che sarebbe il guscio protettivo non integrato ma rimovibile altra cosa valutate se vi serve un holster integrato o rimovibile perché quegli integrati si sporcano diventano dei dei cassini in seconda dove vengono usati questi sono i livelli di protezione dei multimetri la Unity ha a catalogo dei multimetri anche il P65 questo per esempio il 191T ah però ecco lo Unity 61E somiglia a questo qui come conformazione sì sì e qui notiamo la presenza di due cose molto importanti la misura di bassi livelli di resistenza con una con una corrente che è più alta del miliampere usata normalmente ma diciamo è attorno ai 10 miliampere per i multimetri di palmani per quelli da banco che arriva anche a valori superiori e poi filtro passa basso per chi fa le misure su driver di motori e l'ova varia e poi qui che ci abbiamo l'IP65 il vero valore efficace ovviamente il vero valore efficace nei limiti del fattore di cresta che è definito come rapporto tra il valore di picco e il valore efficace e quindi questo è uno dei vari cloni degli aneng evitare accuratamente multimetri senza commutatore fantastico per elevati fattori di cresta come ben sapete segnali impulsivi SCR TRIAC quello che sia servono fattori di cresta superiori a 5 di solito i multimetri anche nel range di frequenza che coprono sui 100 KHz di 100 KHz dipende dalla banda passante che hanno arrivano a 3 5 4 ma dipende perché poi la linearità non è più garantita e l'87.5 mi sembra che arrivi l'87.5 c'ha una D737G mi sembra Analog Devices che fa la computazione per via per quei classici metodi che usa diretta esplicita implicita eccetera questi sono questi sono questi sono problemi di produzione cammini rotti broken path e e sono gravi perché se ci sono si interrompe la pista e buonanotte suonatore qualcosa non funziona più dopo eh sì nel Bryman 786 c'ha proprio addirittura delle porzioni di commutatore interrotto recensione di multimetri in questo ho visto alcuni in vendita quelli con questo che croce eccolo lì la D737G quello lì è il mitico M430 o 440 il microcontrollore della questo è un 430 430 qualcosa nel Fluke 179 eh sì 430 F430 F437 sì questo vedi Piero questo accanto questo qui è un circuito custom della Fluke che ci ha introdotto dopo l'89 189 questo qui questo a destra qui c'ha tutte dentro le funzionalità di commutazione delle portate generazione della corrente di misura per le portate un metri eccetera questo è il mio amato 282 ecco Marco vuoi parlare due secondi dei fusibili all'interno dei multimetri sono una cosa importantissima e purtroppo suscettibile di contraffazioni state attenti stiamo attenti a compilarli da in cresso di venditori affidabili perché esistono contraffazioni che poi in genere hanno farsi sensi di sicurezza vale a dire esplosioni del multimetro dello strumento questi qui hanno potente interruzione quello da 11 ampere di 20 kilo ampere mi sembra e questi sono della basma nell'87 5 recente ultimo che ho visto c'è la c'è installati della light della little fuse messico e comunque è meglio non guardare i prezzi perché ho visto un fusibile questa coppia qui e pier costerà su anche 50 euro infatti quindi posso dire una cosa c'è un problema come un multimetro cinese e multifunzione è purtroppo sì Paolo qui abbiamo un altro problema di ebay che ti fa frequenza induttanza telecinese qui abbiamo un altro problema abbiamo il problema della abbiamo il problema della garanzia di interruzione perché non è garantito che si interrompano entro un certo tempo deterministico con un certo valore di corrente anche vicino al fondo scala quindi mai usare fondo scala più basso per le prime misure di corrente quando la corrente è incognita quindi niente 400 mAh prima 10 e poi magari perché io so di eventi catastrofici vicini anche a 440 mAh con un fusibile non interrotto ovviamente la portata da 10A per pochi secondi perché poi fonde lo shant resistivo a 4 terminali poi fonde certo questa è una pinza amperometrica molto conveniente economica e molto diffusa la Unity UT210E certo che io questa guarda che stampato sì quella pinza lì Paolo te la consiglio perché te la consiglio quella pinza amperometrica lì perché è a vero valore efficace e anche diciamo personalizzabile come numero di conteggi poi ti dirò come ma basta uno sketch Arduino questo qui è quello lì che aveva fatto prima ecco questo è un altro Unity un altro esempio di fascia molto bassa Unity con commutatore rotativo eccetera eccetera però ecco Marco per non spaventare troppo chi vuole magari dotarsi di un multimetro un oggetto del genere voglio dire possiamo stare abbastanza tranquilli anche da un punto di vista allora è chiaro che non avrà la precisione in temperatura e anche magari caratteristiche come il rinfresco della misura o un bip di quelli franchi oppure il rinfresco della misura veloce però per gli utili ce l'abbiamo tutti cavalli di battaglia come questo qui ce l'abbiamo ce l'ho anche io questo qui è un entry level diciamo per chi fa misure in corrente continua a bassi livelli energetici soprattutto certo cioè senza infamia né lode voglio dire però riesce a fare ovviamente ovviamente se avete bisognerà risolvere bisognerà bisognerà risolvere il problema della calibrazione poi con Tiziano sul forum ne discuteremo perché sarebbe ci affrancheremmo da molti problemi certo infatti prima c'era una domanda che ti riporto pari pari un ascoltatore chiedeva la differenza fra taratura e calibrazione giusto per la calibrazione sempre riferita da determinati parametri fisici come temperatura prima cosa pressione e umidità diciamo un confronto con un campione con un campione come c'era scritto nei vecchi manuali della ISH di sicura affidabilità la taratura è messa in punto prevede l'intervento interno se il multimetro richiede la ecco questa è la way instrument che ha collaborato con il progettista 121GVW la taratura e la messa in punto prevede l'intervento interno se il multimetro prevede la diciamo la messa in punto tramite trimmer esatto o altrimenti come nei multimetri più recenti si interviene nei parametri memorizzati o in una app om esterna seriale da cui il microcontrollore ogni volta che viene acceso l'estrumento carica i parametri oppure come fa Fluke con nati sistemi e metodologie custom che c'ha internamente lui l'87.5 che hai lì è a calibrazione senza apertura ma anche l'89.4 è già a calibrazione senza apertura ascolta sempre in tema di cinesi chiedono per esempio Aneng perché è comunque un marchio che ritorna a questo cosa ne pensi di Aneng? ho il piccolettino mi sembra un 8.900 Aneng va usato per quello che è stato concepito e progettato vale a dire sono multimetri vero valore efficaci eccetera carini però estremamente poco perfetti mai misurarci correnti in una certa rilevanza con oggetti del genere perché e poi cosa altro ovviamente la qualità del commutatore non è eccelsa tra l'altro la serie 8.000 Aneng sembra un clone di quella Fluke 100 sembra proprio quasi identico all'101 questo è il mitico T61 e ah ok questo qua molto probabilmente questo qui ricade in quella versione prima che ti dicevo questo qui dovrebbe essere 22.000 conteggi ma non sono sicuro esatto ecco spendiamo due parole sui conteggi perché è un tema abbastanza ricorrente no il numero di conteggi in maniera molto semplice è diciamo il numero di cifre che vengono visualizzate a display e che definiscono la risoluzione della misura quindi un 50.000 conteggi misura da valore 0 fino a valore 4 9 9 9 quanti 4 9 9 9 9 9 4 9 esatto sì e una volta questi valori hanno dati forniti con quei con la metodologia e prassi delle cifre dell'indicazione del numero di cifre ma era molto un 4 cifre e mezzo non corrisponde a un 50.000 conteggi come è l'894 ad esempio che ho io il tuo flucco 87.5 in 20.000 conteggi e c'è la possibilità di essere portato da 3 cifre e mezzo a 4 cifre e mezzo in modalità alta risoluzione quindi per risolvere le ambiguità introdussero il numero di conteggi a display ci sono dei mostri come i Brahim 869 che arrivano a 500.000 conteggi però ovviamente ci sono dei limiti perché mano a mano che aumenta il numero di conteggiamento al tempo di conversione analogico digitale parecchi diciamo poi c'è il problema della stabilità delle cifre questo è un buon esempio di multimetro vero valorificace vecchio della Fluke ma estremamente robusto il 27Fm questo qui se calibrato non ha un gran numero di cifre perché mi sembra sia tre cifre e mezzo però veniva usato anche a livello militare infatti l'esercito americano usa Fluke 27 che non è a vero valorificace e 27Fm a vero valorificace questo esatto beh allora lanci un assist quanto è importante il fatto che un multimetro sia a vero valore efficace oppure no diciamo che se una persona ha diciamo la è proiettato ad effettuare misure su forme d'onda che non siano esattamente sinusoidali o che devino dalla perfetta sinusoidalità oppure equivalentemente bassa distruzione quindi niente forme d'onda quadra dente di sega impulsiva eccetera eccetera può anche comprare un multimetro standard calibrato sul valore medio della sinusoidalità con quello però oggi come oggi non me lo sento più di consiglia non me la sento più lo fa l'esercito americano perché ha delle delle prassi precise calibrate con strumenti a valore medio ma per altri tipi di impieghi ormai secondo me è meglio compriarne uno a vero valore efficace che ha problemi con il fattore di cresta come ho detto questi qui palmari soprattutto quelli da banco o meno ma questi qui palmari si quindi se una persona fa delle misure sugli SCR con fattori di richiesta anche superiore a 5 l'errore aumenta bisogna purtroppo sapere in maniera preventiva la forma dove ha a che fare e non sempre questo è possibile non sempre questo è possibile il costo di acquisto non è estremamente più elevato questo è un vecchissimo uno dei primi questo non ebbe molto successo il 19 della Fluk tutta se la guardi dentro quasi tutta la stessa circuiteria ho cercato di metterci quelli che mi ricordavo quasi tutti poi ovviamente ci sono dei produttori addirittura anche dell'est Europa sconosciuti certo ascolta Marco se sei d'accordo possiamo parlare un po' della teoria della misura e so che avevi sì qualche cosittina diciamo io farei un discriminato a precisione e accuratezza vuoi che prendiamo l'80-60 come riferimento quello legato facciamo così che così che l'80-60 è un multimetro storico no direi forse il primo il primo a implementare un true rms vero eh sull'80-60 ci sono molti aneddoti fra cui una diatriba legale tra interzil e fluk per una diciamo una causa di clonazione del 7106 e e poi vabbè sul forum quello famoso c'è proprio il progettista dr taylor è il nickname che è il capo progettista dell'80-60a la la precisione e l'accuratezza molto spesso vengono confusi perché accuracy in inglese viene tradotto con precisione ma la precisione si si riferisce più diciamo alla ripetibilità delle misure nelle stesse condizioni operative quindi avrete che il valore atteso dalla misura tenderà ad accumularsi per uno strumento che è preciso attorno ad un punto all'aumentare del numero di misure l'accuratezza invece è una cosa a pagine seguenti l'accuratezza è un parametro che identifica più diciamo lo scostamento dal valore medio della misura perché il ancora di solito l'accuratezza viene riferita al percentuale della misura effettuata più un certo numero di cifre cifre che fanno parte dei conteggi mostrate al display se ancora avanti ancora avanti perché qui tratta tutta la convenzione logica a doppia rampa eccoci qua benissimo se leggete un manuale di un multimetro c'è specificato per ogni tipologia di misura per ogni intervallo per ogni fondo scala c'è specificato la risoluzione prima di tutto che dipende il numero di conteggi e poi l'accuratezza questa si è traducibile con l'accuratezza come per più o meno il numero per citare la lettura più il numero di cifre qui c'è anche spiegato su un fondo scala di 100 millivolt che è questo qui con una lettura 125 millivolt l'errone massimo è più o meno lo 0,04 per cento della lettura quindi 125 millivolt più due digit moltiplicati per la risoluzione 002 millivolt e avete un range dove ricadrà il valore diciamo vero misurato vero che è un'astrazione matematica metrologica e poi niente questo è un parametro molto importante da tenere in considerazione ci sono multimetri che hanno una precisione base anche dello 0,0 25 per cento come il 289 che avrai fra qualche giorno in continua mi ero anche segnato quante cifre rispetto al mio 89,4 l'89,4 sulla portata 3000 millivolt quindi con un'impedenza superiore a 10 mega l'ingresso era specificato per 0,0 25 per cento più 5 conteggi mentre il 287 è specificato per 0,025 più 2 conteggi più 2 conteggi quindi è più preciso ovviamente questi dati vanno interpretati interpretati vanno visti solo se lo strumento è calibrato quindi se ricade in quell'anno o due anni certo per cui viene specificato ecc l'impedenza d'ingresso standard nominale 10 mega ma però per certe portate per certe fondo scala ad esempio per la precisione sale e va anche sopra il giro ma questo è per portate tipo 300 millivolt 3000 millivolt come quella lì dell'894 proseguo qui ci sono le specifiche in corrente alternata quindi qui arriva il problema della risposta in frequenza l'8060 come l'894 e l'189 erano specificati per 20 hertz 100 kilohertz e qui bisogna vedere in che in che campo ricale la misura cioè il valore mostrato a display non sono non sono cose automaticamente io penso che moltissime persone ci facciano nemmeno caso però se una persona deve documentare la misura che fa bisogna che specifichi che strumento è se è calibrato in che range di frequenza non è la misura se è in corrente alternata eccetera certo risposta in frequenza questo vabbè esatto infatti una delle domande che ci capita spesso è qual è la frequenza tipica massima che possiamo considerare misurabile con i multimetri perché un esempio un medes però l'89 sì dimmi dimmi no nel senso che spesso nel mondo soprattutto degli switching dove le frequenze tipicamente sono nelle decine di kilohertz uno si chiede ma col multimetro riesco realmente a misurare una frequenza di switching in maniera più o meno affidabile diciamo dipende da quante armoniche devi tenere conto perché il problema è proprio quello se il numero di armoniche va sopra sale questi qui arriveranno i migliori arrivano a 100 kilohertz però sono nominali perché da misure effettuate vai anche un poco sopra 100 kilohertz arrivi anche a 200 ovviamente servirebbe meglio in quell'ambito lì sarebbe meglio un frequenzimetro però certo perché Marco un conto è un segnale magari voglio dire digitale o comunque pulito un conto è una forma d'onda che puoi misurare su un magnetico di uno switching che presenta tieni presente che sono ci sono due categorie di multimetri l'875 è per diciamo settore elettrico più che altro 289 287 sono diciamo più orientati al settore elettronico sono questioni di lana caprina però ecco questa è la questa è la misura in frequenza con accoppiamento in alternata convezione true rms a c eccetera questo qui l'8060 è ancora oggi come prestazione è avanzato quindi se una persona potesse trovarlo usato e farlo calibrare vorrebbe essere questa misura di correnti misura di correnti tramite shunt resistivo a 4 terminali che sono componenti monolitici giusto allora dunque il nei flucco 875 quelli che sono per la portata 10 ampere è un shunt resistivo a 4 terminali discreto bellino limato anche per il valore in ohm del resistore e per la portata più bassa è un di solito monta un viscei del smd a 4 terminali sempre piccolino saldato sul pcb certo ascolta marco davo un'occhiata all'orario no siccome avevamo impostato circa un'ora siamo alle 10 e 11 non vorremmo abusare del tuo tempo per cui insomma no no sono qualche altro minuto poi vado vado a sganocchiare non un multimetro ma qualche osso mi raccomando bisogna far crescere il nostro forum anche perché noi in Italia siamo siamo gli zimbelli di tutta Europa e di tutto il mondo in ambito elettronico è uno spreco un grande spreco altra cosa che vi volevo un altro multimetro che mi è venuto in mente adesso è lo Unity 139C anche quello è personalizzabile potete aumentare il numero di conteggi perché vi arriva con un certo numero di conteggi è aumentabile tramite programmazione interna e sketch arduino e poi una pinza amperometrica vi serve sempre perché per le misure o con bobina o con bobina di rogovski o con o con una pinza amperometrica standard o una misura su circuiti che non siano interrompibili classicamente la batteria dell'auto per la per la serve sempre le le pinze amperometriche o sono passive cioè da collegare al multimetro oppure come le fa anche fluke chavina arnault eccetera oppure sono assistanti autonome qui andrei su unity perché se toccate fluke o chavina arnault lui ce ne ha due pierce ne ha due di quelle belle anche belle sono dolori il costo di acquisto sale alle stelle ascolta Marco un tuo messaggio quindi qualche consiglio per chi fa misure magari anche all'inizio no? quindi hai un multimetro quindi come abbiamo detto con un budget limitato ci possiamo orientare verso certi produttori rispetto ad altri per una questione appunto di come sono realizzati gli strumenti qualche altro consiglio che ti senti di dare in ambito multimetri per esempio le batterie che è un tema abbastanza prima volevo dire un'altra cosa ovviamente noi abbiamo parlato con 99% di multimetri palmari multimetri da banco sono più costosi certo multimetri da banco io consiglio adesso l'ho trovato anche usato un fluke 45 da fare calibrare perché se non è calibrato siamo a punto e a capo le batterie sono un tallone di Achille come come dice il capitano di Ritzik in il noto film con Schwarzenegger è d'anco sono un tallone di Achille perché le batterie alcaline sono molto inclini soprattutto di una marca quella del coniglietto che va in giro esatto non diciamo nomi quella lì quella che cammina 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 si ferma mai quelle lì sono molto proni con tecnologia alcaline al rilascio alcalina al rilascio di KOH che è un sale corrosivo con rode piste di circuito stampato con rode contatti batterie ma io guarda ecco senza dire nomi sui fluc che ho io adotto solo batterie che cominciano con la E con la E e finiscono con Energizer quelle lì quelle lì alcaline oppure su quelli più pregiati che ho che vogliono che vogliono che ha cerco da avere una ragionevole scettezza perché le macchine sono sempre inanquate con quelli più pregiati adotto le ultimate lithium al disolfuro di ferro e litio hanno una tensione a circuito aperto di 1,8 volt non sono impiegabili in tutti gli strumenti perché ci deve essere presente un regolatore di tensione senza il quale non è garantito che funzioni il strumento o vale a dire che si bruci perché nei fluc c'è un regolatore di tensione a bassa caduta che regola e che accetta anche 1,8 volt senza problemi per cella per batteria in quelli più economici non non me lo sento non me la sentirei di installarceli dentro però le energiagel sono più sicure se ci fate caso quando le guardate le alcaline ci hanno degli sfiati in fondo sul fondo perché di solito il KOH e come funziona la reazione esce dal polo negativo e se le guardate sia in cima che in fondo ci hanno previsto dei piccoli forellini di di sfiato quindi anche a te 289 subito guardare se c'è dell'energia da dentro certo e poi al vano batteria come lo aprite il 289 è delicatissimo 289 101 c'hanno quella quella viterellina di nylon state attenti come le aprite per carità e che di cambio costano come ho detto è un'esagerazione monetina piano 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 di 180 gradi ti viene fuori fa uff e via e sicuramente comunque fluke posso garantire che monta di solito monta energizer fuori che le produzioni cinesi produzioni cinesi marchi cinesi esatto un aneddoto sulla Cina è che fluke ha visto bene di creare tutta una linea di proprio gli stessi strumenti con la sci 87 5 c 289 c 287 c più c'è tutta la linea che conosci 100 10 17 14 15 quella classica da elettricista che si manovra con una mano col commutatore così e niente batterie energizer o altrimenti panasonic ma le uso io uso solo energizer le max o quelle classiche nere e rosse e quindi le versioni c della fluk cosa ti senti di dire sono in teoria equipollenti a quelle occidentali 87 5 c per il mercato teoricamente cinese indiano vendute allo stesso prezzo di quelle equipollenti occidentali proprio identiche con lo stesso prezzo ovviamente bisognerebbe accettarsi che componenti monta dentro e che controllo di qualità c'è ma segate un tempo motori spinto degli hard disk fatti in cina dopo un certo periodo di tempo ebbero problemi al sistema fluidodinamico di lubrificazione guasti quindi controllo di qualità non è sempre proprio stretto certo e Paolo tu avevi qualche domanda o rilancio che così fra un po' rilasciamo Marco sennò qua lo incateniamo è un vecchio film con Nivon Sanz e Niamede Nazari mi stavo chiedendo visto che lui è molto stancho sai se esiste o hai mai provato qualche multimetro diciamo via usb o via smartphone so che adesso mi ridirai evitare accuratamente evitare come la peste sia quelli lì sia quei piccolissimi sangua sì no perché per un fattore di sicurezza perché anche quelli micro quelli c'è una categoria interna di multimedi palmarie quelli sangua ad esempio giapponesi quelli piccolissimi con addirittura puntali fusi insieme allo strumento che sono proprio quelli lì sì che sono pericolosi hanno un termistore solo interno commutatori proprio c'era anche la unity a catalog ma quelli lì proprio se vi trovate in giro e dovete vedere se è presente la 2,30 proprio meglio di no poi ovviamente fai la misura sulla 2,30 a 400 volt di fase non ti succede niente ma se la volta che c'è una sovrattenzione che cammina lungo le linee e la becca allo strumento salta allo strumento e l'operatore insieme infatti Marco c'è una cosa che prima è girata nei commenti prima abbiamo parlato di kilovolt allora nei commenti dicevano ma tanto noi non abbiamo a che fare con alte tensioni ecco chiariamo chiariamo che qui parliamo di sovratensioni sovratensioni quindi possono essere anche qualche possono essere anche isolati o anche treni di impulsi assolutamente di microsecondi sulla 230 volt che ci aspetteremo essere una sinusoide più o meno carina senza armoniche a quella frequenza ogni tanto arrivano delle legnate allora allora me ne rendete conto chi di noi chi di voi ha un UPS un gruppo di continuità se ne rende conto perché viene disgiunto dalla rete quando si verificano problemi di quel tipo lì perché viene misurato il dv su dt dell'attenzione quelli a pc fanno clic si sta clic 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 entro metà semipedio entro metà periodo 10 millisecondi a nostra frequenza 50 hertz quindi è vero che a mille volte una persona pierce è arrivato staticamente con quel famoso divisore di tensioni fatto con un bel resistore da G-DOM belli grossi quella è una tensione statica permanente ma io mi riferisco a sovratensioni impulsive che ci possono essere come no certo esempio un carico induttivo bello grosso attivato vicino a casa sei lì che fai una misura su un trasformatore su un trasformatore no ma su un punto dove c'è presente classica tensione di rete torna indietro motori motori quelli anche quelli cioè non è una cosa condisce non mi non mi permetterei mai di visto l'esiguo dimensione del del conduttore perché la rispondenza di specifiche categorie dipende anche dalla spaziatura tra le boccole spaziatura interna dentro tra le piste perché se le piste sono vicine scocca l'arco come sappiamo bene lo stesso pcb deve essere rivestito di materiali che non facciano propagare l'arco perché se no succede patatrack il microcontrollore in cima salta non è tanto esatto dove l'ho visto in qualche multimetro in un multimetro come abbiamo menzionato multimetro della agilent chi sai provato di decente visto di decente ci ha venduto come 1231 1233 mi sembra a chi sai c'ha dei soppressori di transitori a gas a scarica di gas non molto efficienti perché ha fatto delle prove sempre il suddetto joe smith e si innesca l'arco dentro il commutatore quindi si si vede proprio l'arco che fa e è pericoloso perché guasta il multimetro lo strumento quasi automaticamente perché dopo dal commutatore arrivare sopra al microcontrollore e a circuiti integrati delicatissimi è un volo infatti poi alla fine la protezione di questi strumenti anche rispetto all'uso che ne viene fatto è importante il classico discorso io metto in ometro e vado a misurare la 230 cosa succede allo strumento? allora se lo strumento è protetto come sono i flucchi eccetera viene limitata la corrente dal redditore di protezione e dai termistori si scaldano aumentano resistenza e non succede niente prova effettuate proprio da Jones io non mi permetterei mai ma ovviamente la misura dei valori di resistori quindi resistenza ritorna operativa dopo un po' di tempo quando la temperatura è tornata e lo stesso succede per portate amperometriche quando ero col microtest 80 mi successe una volta dentro un portalampare ero piccolino quello è un classico sui puntali c'è sempre la fusione in cima sul positivo infatti guarda un consiglio mi sento di darlo io proprio per un discorso di sicurezza se usate il multimetro come amperometro non lasciatelo così mai perché la volta dopo molto probabilmente andrete a misurare una tensione e può succedere di tutto quindi l'amperometro una volta che l'avete rimettete le boccole al loro posto nella migliore delle ipotesi si interrompe il fusibile nella migliore però perché non è detto certo però guarda ti assicuro penso che sia capitato a molti di noi sulla 230 per esempio andare a mettere un amperometro secco sulla 230 può creare un trauma perché comunque il botto lo fa lo scintillone lo fa poi magari non si rompe niente però ci rimani ci rimani male ma lo shant resistivo ne risente di sicuro poi ci sono tutti i piccolissimi componenti smd vicini certo certo è un evento catastrofico puntali ovviamente compilateli di buona qualità se compilate unity eccetera va bene usate quelli in dotazione ma se avete multimetri di blasone che siano anche quelli certificati certificati con le stesse specifiche categoria 3 4 certo TL175 quelli con la punta detraibile Fluk TL71 che sono in vendita ormai da quasi 30 anni certo e infatti un buon metodo per capire così di primo pelo se sono buoni se tu li pieghi senti se dentro ci sono i micro conduttori tanti occhio perché i Fluk TL175 sono contraffatti anche quelli su ebay quindi bisogna stare attenti a comprarli al di fuori dei canali più come ho detto pronunciato il magico non mignolo certo bisogna stare attenti perché anche quelli sono stati sottoposti a truffe con poco materiale dentro avere dei puntali scarsi purtroppo se non te ne sei accorto hai tutte le misure fasulle io pensavo mi capitò una volta di avere un puntale che si era a forza di piegarsi aveva cominciato a degradarsi le misure delle basse resistenze erano tutte tutte falsate cioè aveva praticamente 5 ohm solo il puntale solo il puntale bisogna stare attenti perché anche lì di TL175 mi sembra che ce ne sia almeno un paio di varianti in giro che variano dal colore poi più queste sono legittime poi ci sono quelle illegittime certo e hanno un colore differente ma è difficile rendersene conto se non le tagli magari bisogna fare una prova di valore di resistenza però senza andare a usare quelli placati oro perché tanto se non fate misure su contatti placati oro introducete un errore dovuto all'effetto sibeck siamo coppia certo altrimenti i fluc li avrebbe tutti a catalogo placati oro e tutti i puntali della fluc sono prodotti dalla comuna quindi benissimo quindi anche puntali attenzione al puntale si ascolta che dite io direi che come orario perché non volevamo rubarti tempo sappiamo che sei impegnato non volevamo tanto ci saranno altre occasioni non vi preoccupate il mondo di allora nel frattempo ricordiamo che Marco scrive appunto sul forum quindi è direttamente sul mio sito quindi su pieraisa.it forum un appassionato anche dei microprocessori ecco quindi lo trovate sicuramente ecco lì direi che è la migliore enciclopedia di sempre se volete scoprire difetti o pregi dei multimenti andate lì e avrete un parere sicuramente obiettivo e molto competente passo la parola a Paolo una cosa sola un giorno poi faremo la retroingegneria di qualche codice dentro a qualche microcontrollore però ci vuole un aggancio con una J-Tag o qualcosa certo per leggere quello che c'è dentro perché mi incuriosisce perché anche vedere le routine che usa per fare l'autorenging sai autoselezione delle portate perché i multimenti sono comportati selezionabili a fondo scala manuale oppure automaticamente in dipendenza del fondo scala eccetera i vecchi c'erano manuali benissimo ascolta Marco niente io quindi ti ringrazio già a nome di tutti veramente molto molto interessante ci hai veramente stupito con dettagli di ogni tipo su ogni marca ogni modello incredibile e quindi grazie mille lascio la parola a Paolo per i saluti ti ringrazio io perché tanto qui in Italia non c'è l'altro forma ai suoi livelli in elettronica computer retro gaming quello che è z80 a poi abbiamo gli stessi interessi quindi nuova elettronica eccetera 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 e via va bene mi piace anche il dottor Faggini nell'intervista che avete fatto perché io ho la passione anche dei microprocessori quindi la busy con 141 la misi dentro la tesi di laurea e l'inter il 4004 e il 4040 tutti fino al Skylake o Cabile eh ma lì cominciamo con un taglio un po' elettronico poi la serata prese mamma mia i dettagli i dettagli di progetto del 4004 il dottor Faggini si svegliava la notte e progettava non aveva orari poi a quell'epoca era tutto più oneristico eh sì maschere disegnate e ridotte foto ridotte a mano facevano mica come adesso va bene non ti dico poi ne parlerò sul forum ma vabbè grazie ragazzi niente grazie a te allora cerchiamo di chiudere perché vedo tanti stanno iniziando a salutare quindi ci stanno ci stanno abbandonando ne approfittiamo per salutarli e ti ringraziamo per averci aperto un po' le porte sulla tua conoscenza enciclopedica sul mondo di multimetri delle misure quindi chi ha seguito visto che abbiamo messo il link poi magari lo mettiamo in descrizione Pier così che resta possono poi eventualmente venire a tampinarti e disturbarti con tutti i dubicchi anni ovviamente buona passi è una crescita culturale è un'opportunità per muovere qualcosa in Italia perché l'elettronica in Italia è un po' ingessata a meno che una persona non lavori ti raccomando una cosa prima di domandare provate a cercare quindi vedete se magari c'è già la risposta perché visto che hai recensito una marea di strumenti magari prima di descrivertelo e rubarti del tempo utile diciamo andate a cercare nell'elento nel post però non c'è problema non c'è problema tanto ci vado in maniera difficile ci vado ci vado ci vado in tempo differito di solito la mattina guardo quello che mi fa aspettavo il 289 ma quello arriverà non ti preoccupare comunque ah una cosa ultima il supercondenzatore il 289 occhio a quello nel tuo modello ci sarà una batteria allora facciamo così faremo un unboxing facciamo un unboxing così mentre mi raccomando mi dici dove metterle mani niente tear down perché si si rovina aprire uno strumento mi raccomando non lo aprite mai l'89 4 ha subito il cambio di supercondenzatore anche quello benissimo ci sentiamo ragazzi e ascolta Marco noi ti ringraziamo adesso Paolo noi ci rivediamo fra un paio di settimane direi giusto primo aprile primo aprile da calendario sul sito trovate abbiamo già abbozzato una scaletta le date in teoria già tutte prenotate quindi primo aprile torna a trovarci Maurizio di Paolo Emilio e ci parlerà di un libro ce l'ho amico ce l'ho amico ce l'ho amico è un altro fa della cricca carburo di silicio esatto benissimo tornerà per raccontarci qualcosa di questa sua nuova opera e allora mi collego va bene quindi ti aspettiamo se ti vediamo nei commenti ti salutiamo certo ci farà piacere averti anche come come pubblico certo va bene niente quindi date un occhio sulla pagina appuntamenti per vedere cosa arriverà i link li pubblichiamo man mano quindi di solito la settimana prima qualche giorno prima postiamo il link però direte comunque se vi siete memorizzati l'indirizzo del canale è sempre quello quindi entrate e trovate l'ultimo l'ultimo evento o quello programmato allora ancora grazie a Marco lascio la parola a Pier buona seduta ragazzi esatto ascolta Paolo vedo che girano molte domande sul fatto che sia un pesci d'aprile non è un pesci d'aprile noi il primo ci siamo no 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 è giovedì è giovedì esatto è giovedì e quindi ci vediamo e niente io ringrazio come sempre Paolo grandissimo Marco ovviamente per tutto il supporto in tutti i sensi veramente un attivissimo del forum del canale sempre pronto sempre gentile disponibile è un pozzo di sapienza quindi niente veramente penso che abbiamo creato una serata interessante se non altro per chi è appassionato di questo mondo di misure ma anche elettronico in generale e a questo punto ci si rivede fra due settimane e quindi vi salutiamo ciao a tutti ciao a tutti buona serata grazie a tutti